Sapevamo che l'Arezzo voleva vincere a tutti i costi, ovviamente, e quindi abbiamo fatto, secondo me, un'ottima gara, sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo combattuto, abbiamo lottato su tutti i palloni, abbiamo fatto anche una buona gara di qualità, abbiamo creato tante opportunità anche per andare a segno. Quindi la prestazione nostra nel complesso è stata molto positiva, quindi sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Sapevamo che era un momento particolare per loro, nonostante siamo solo all'inizio, quindi abbiamo cercato anche di approfittarne di questa situazione. Poi poteva andare in un modo che loro si potessero esaltare, e quindi bisognava fare una gara di grande attenzione, l'abbiamo fatta e per questo sono contento. Dipendeva un po' dall'atteggiamento che avrebbero avuto loro, loro ci hanno aspettato nel primo tempo, quindi non abbiamo forzato le giocate, abbiamo aggirato. Siamo andati sugli esterni parecchie volte con le mezzali, che era un po' quello che avevamo preparato nel caso in cui ci aspettassero. Devo dire che l'abbiamo fatto bene, abbiamo creato i presupposti per far gol già nel primo tempo, quindi come ho detto è stata una prestazione positiva.